Un nuovo programma televisivo partirà a settembre in prima serata su Italia 1 si intitola Ono Lulu prodotto dalla Colorado Film e da 302 Original Content questo programma viene condotto pensate da Fatima Trotta e Francesco Mandelli chi si ricorda di Francesco Mandelli è quel simpaticissimo personaggio che in qualche modo ha fatto da contorno a un altro suo collega con un duo comico che veramente ha fatto divertire tutti, nessuno escluso bene, all'interno di questo programma pensate che debutteranno anche il duo comico Pampers che tutti conosciamo, il duo comico Cresciuto nato su Youtube e che poi si è evoluto e è andato a fili a Colorado su Italia 1 quindi anche in diverse vittenti televisivi debutto per quanto riguarda loro stessi che vi ricordo si chiamano i Pampers come soprannome ma a nanagrafe sono Luca Pieracino e Andrea Pisani vi ringrazio per l'ascolto, il bio termina qua dunque la conduzione è proprio di Ono Lulu abbiamo Francesco Mandelli e Fatima Trotta grazie a tutti, iscrivetevi al canale Narratore Italiano commentate, ciao e al prossimo video